Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube Oggi è lunedì, come ogni lunedì quindi vi porto un'analisi gameplay Analisi gameplay che oggi ci andiamo a prendere dalle qualifiche che ci sono state questo weekend E in particolare andiamo ad analizzare una partita giocata su Playstation Dal mio compagno di squadra Dagnolf contro il giovane talento olandese Levi de Verde Che ha concluso in top 6 e quindi si è assicurato la possibilità di giocare le fasi finali del torneo Direttamente in live sul canale EA Quindi partita molto molto interessante e che ci permette di andarci a porre una domanda E probabilmente anche a trovargli una risposta La domanda in questione è questa È tornato il 4-2-3-1 Non vi spoilerò e andiamola a scoprire insieme Quindi passiamo subito sulla partita E andiamo a analizzare questo game In particolare voglio soffermarmi sul match di ritorno Dopo che l'andata se l'era portata a casa il giovane olandese per 2-1 Ancora una volta scende in campo come vi dicevo con il 4-2-3-1 Anche in questa partita di ritorno Sento di pormi questa domanda perché ho letto tanto 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 su twitter A riguardo del 4-2-3-1 in queste qualifiche Già qua possiamo andare a trarre delle prime analisi Guardate qui come con il 4-2-3-1 Praticamente il buon Levi si ritrovi con tre giocatori Che gli aggrediscono potenzialmente la profondità Andando ad impegnare praticamente tutta la linea difensiva di Daniel E si ritrovi anche poi l'esterno totalmente libero Per poter passare dietro la linea difensiva E andarsi a ritrovare in una posizione pericolosa Cosa che poi effettivamente accade Perché guardate qui come gli va ad impegnare Tutta la difesa con quelli che sono punta CoC e COD Con il COS che sta esattamente Facendo la rincorsa per andarsi a inserire Ricevere il pallone e provare a concludere in porta Cosa che purtroppo non riesce a fare Però avete visto come abbia praticamente Trovato facilmente lo spazio Grazie alla sua disposizione tattica E vi dicevo che tanti hanno utilizzato il 4-2-3-1 Questo fine settimana A dispetto di quello che accadeva precedentemente Io adesso mi immagino Quelle che sono le domande che vi state ponendo E che farete nei commenti Ossia Il 4-2-3-1 adesso è il modulo migliore Eccetera eccetera Ricordatevi che come dico sempre La differenza tra un modulo e un altro Lo fa il fatto che magari voi Quel modulo lo padroneggiate Lo sappiate utilizzare meglio Quindi sicuramente il 4-2-3-1 Torna prepotentemente nel fascio Di quelli che vogliamo chiamare moduli meta Ma vi ricordo che insomma Bisogna anche saperlo far girare come modulo Intanto guardate come lui cerchi costantemente Anche se adesso è stato chiuso Quello che è un'azione tipo del 4-3-1 Ossia la giocata Aspettate un attimino che mi sia ok Ossia la giocata terzino Mediano In uno dei due casi Più pala lanciata sull'esterno Praticamente la giocata è questa Primo passaggio nella zona mediana Passaggio scarico nella zona dell'esterno Con il mediano che si sovrappone Dietro il mediano avversario E poi lancia l'esterno che è scattato In questa direzione Quindi questo è un motivo chiave Del 4-2-3-1 per andare a liberare Quelli che sono i nostri giocatori Qua però grandissimo intervento di Danioff Con Gullit che lancia Neymar in aria Qui probabilmente Poteva giocarsela meglio Questa azione qua Perché l'anticipo è da fuori classe La palla dentro per Neymar c'è Arrivato a questo punto Io me la sarei giocata Con finta di tiro per piantarmi Quindi mandare a vuoto il suo difensore Palla a rimorchio su Gullit Si sarebbe ritrovato a 2x2 in quest'area qua Con Walker che gli sarebbe andato a stringere Si sarebbe tolto da questa porzione di campo E aveva anche lo scarico facile su R9 Quindi me la sarei giocata un attimino diversamente Però sono situazioni di gioco L'ha interpretata così E insomma da fuori è facile analizzare E andare a parlare Intanto guardate come cerca sempre costantemente Di andare a liberare il COS In questo caso il buon Levi de Verde Che insomma abbiamo tutti un lato preferito Quando attacchiamo Non nascondiamocelo Quindi lui si vede che predilige il lato sinistro Quando attacca da destra verso sinistra Cosa che effettivamente riesce a fare Con Ronaldo guardate qua Questa è un'altra situazione chiara Che possiamo andare ad analizzare Perché lui in questo momento si ritrova Con il COD in possesso palla Che è il nostro giocatore numero 1 Però guardate in area di rigore In area di rigore c'è l'ATT Che è praticamente il nostro giocatore numero 2 di riferimento Però abbiamo dentro anche il COC E abbiamo anche da quest'altro lato il COD Quindi praticamente all'interno dell'area di rigore Lui non solo ha praticamente ATT e COC In una posizione da 4-4-2 Perché sono molto vicini Ma anche lo scarico su quello che è il COD Che è come se fosse l'esterno di un 4-4-2 Quindi fondamentalmente cosa ti permette di fare il 4-2-3-1 Ti permette di attaccare spesso come un 4-4-2 Ma ti dà molta più copertura Avendo i mediani vicino Quindi questo è un tema ricorrente Per il quale molti stanno utilizzando il 4-3-1 Vedete come qui c'era proprio il passaggio su Neymar Che sembra una seconda punta Invece è il COC e va poi effettivamente a finalizzare questa giocata Quindi gran gol questo Ma nato semplicemente da pazienza Da costruzione della manovra Sapendo quelli che sono i movimenti dei giocatori Senza il pallone da parte di Levi Quindi questa è totale padronanza delle dinamiche e delle meccaniche di gioco Inoltre guardate come va a pressare anche alto, 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 alto Recuperando questa palla con il COD Aspettando nuovamente il supporto del terzino Per poter partire con la solita azione Guardate come lui vada a fare sempre da pivot Con uno dei due esterni con l'attaccante Per andarlo poi a liberare e entrare in area di rigore Ancora una volta guardate anche questo cancello quanto si trova in posizione avanzata E vedete quello che vi dicevo Si trovano i due mediani sulla stessa linea Quindi fanno molto più filtro Però impostano anche bene Qui si era buttato dentro Ronaldo Ma ottimo è stato l'intervento da parte di Dagnolf in chiusura Guardate come anche Dagnolf mi sembra stia utilizzando il No non è vero Mi sa che è 4-4-2 questo Da parte sua sì Perché il 4-2-3-1 mi sa che l'ha messo a specchio nella prima partita Comunque vedete come si ritrovi la squadra molto più compatta Il giovane olandese Ma riesca anche a ripartire con efficacia Guardate qui questa è un'altra giocata pazzesca Questa è un'altra giocata veramente pazzesca Guardate lui che cosa va a fare Si giostra la palla tra la punta che come al solito gli fa da pivot Scarico dietro Lui già sa quello che sta succedendo perché già ha fatto partire Neymar Che sta andando ad aggredire questa porzione di campo dove si è andato ad aprire un varco clamoroso Quindi lui cosa fa? Scarica la palla nella zona di Bruno Sfrutta il mediano sulla stessa linea E poi va a concludere andando a lanciare la corsa del buon Neymar Come ultima giocata con Renato Sanchez Questa è una giocata veramente magistrale Ha aperto la difesa in maniera clamorosa Due passaggi si ritrova in porta Qua anche se l'è giocata male perché in questo momento c'aveva il passaggio sul fenomeno a porta vuota E avrebbe sicuramente trovato la rete del 2-0 Diciamo che ha voluto provare a scartare il portiere Ma non ce l'ha fatta Ha ritardato per me il tempo di questo passaggio Però guardate come la compattezza della mediana gli permette di recuperare ancora una volta palla alto Sempre la solita trama ad andare a giocare con il COD In questo caso con Neymar che da COC si tramuta praticamente in una seconda punta Neymar che ho visto veramente tanto usato in posizione avanzata anche da seconda punta Cosa che sto facendo anche io Poi magari tireremo le conclusioni su questa cosa e vi farò sapere Intanto guardate come ancora una volta si ritrovino i due mediani sulla stessa linea E questo gli permetta comunque di poterli utilizzare anche in fase di impostazione Perché trovarsi i mediani così alti sulla stessa linea gli permette di star tranquillo Nel caso in cui dovesse perder parla per lanciarsi subito ad un recupero Quindi questo è un altro vantaggio rispetto magari a un 4-4-2 Dove invece c'è un po' più di scollo tra i reparti Se vogliamo così dirlo Qui un lancio pazzesco di Cancelo per fortuna però Il buono Black fa buona guardia e non si fa sorprendere Ecco diciamo che la prima volta che avevo visto questo lancio ho detto Oh my god cosa sta succedendo Qui intanto c'è Daniel che cerca la giocata dentro per Gullit Passaggio veramente veramente fatto bene Peccato però perché è arrivata la buona chiusura da parte della difesa di Levi Anche se il buon Danny aveva visto veramente un corridoio illuminante Intanto un altro tema che vi voglio far notare è proprio l'avanzata continua dei terzini Anche in questo caso terzini che sono posti sul resta dietro E attenzione non è che li fa avanzare con le istruzioni Però guardate come sia fondamentale scaricare sui terzini e poggiarsi su di essi Come vi dico sempre Perché anche se portate palla e fate scattare l'esterno senza poi effettivamente dargliela Vi siete liberati un'ampia porzione di campo e quindi vi torna utile Guardate ancora una volta come qui sia Cancelo a fare il lancio sull'esterno E si ritrovi sempre in prossimità della linea di centro campo in una posizione attiva e non passiva Perché se voi mi fate partire l'azione senza un po' l'ausilio dei terzini È come se giocaste praticamente con un giocatore in meno Che deve andare sempre a togliersi da mezzo al campo per innescare gli esterni Quindi mi raccomando utilizzate i terzini Qui addirittura Varane va a fare una diagonale Praticamente per andare a coprire l'uscita di Mendy Quindi tra l'altro dopo la patch, non so se ci avete fatto caso, regà, ma è palese Che i terzini stringano al centro in maniera clamorosa e automatica Ed è veramente una roba fastidiosa Che spesso e volentieri si vengono a creare dei buchi non richiesti Qui guardate come con Bruno Fernandes va a attaccare l'area di rigore E per un pelo non riesca a trovare il centro dell'area 74% possesso palla Diciamo è un dato molto molto pesante Mendy infatti sceglie di andare ad alzare un po' quella che è la pressione E mettergli a punto ansia Visto che Levi era in totale controllo del match Cosa che effettivamente riprenderà anche nel secondo tempo Vedete come il pallino del gioco sia costantemente nelle mani dell'olandese Che con questo modulo può giostrare benissimo il pallone Potete notare come lui sia in totale confidence Si senta totalmente a suo agio con questo schieramento Guardate Neymar ancora una volta Come in realtà si trovi all'interno dell'area di rigore Come se fosse un secondo attaccante Quando invece, vi ripeto, è il C.O.C. Qui addirittura vediamo l'ingresso di Bruno Guimaraes Al posto di Renato Sanchez Quindi va ad aggiungere centimetri alla sua mediana Il talento olandese Mentre Danny qui, vedete come cerchi di allargargli la squadra Senza però al momento trovare il giusto pertuggio Visto che guardate qui come lui è bravissimo a switchare Con precisione quasi scacchistica i suoi giocatori Senza mai tirarne uno in fallo E scoprire appunto la sua area di rigore Precisissimo nelle ripartenze Sempre con questo motivo esterno più terzino Che vi ho fatto notare più volte durante questo game Cristiano Ronaldo Che da esterno posto in questo schema Praticamente domina su quella fascia Visto che tiene benissimo il pallone La smista è in grado di finalizzare È in grado di poter prendere le palle di testa Qualora la situazione si faccia scomoda E abbiamo bisogno di un rinvio Quindi veramente tanta tanta roba Qui gran giocata Con questa berba spin tipica dei 5 skill Peccato però che non trova poi anche il bersaglio vincente Però vi faccio notare per l'ennesima volta Come stia totalmente controllando E come ovviamente unitamente alla sua bravura Questo modulo non solo gli sta permettendo di essere pericolosissimo davanti Ma gli sta anche permettendo di essere molto molto chiuso dietro Quindi rispetto vi ripeto A un 4-4-2 Questo diciamo è il quid in più Che ha questa formazione Rispetto poi magari anche a un 5-3-2 Che vi permette di difendere in maniera migliore Però attaccare con quella formazione lì Non è propriamente la cosa più semplice Ancora qui un'uscita perfetta Con Bruno Fernandes Che recupera il pallone Smista alla perfezione Ancora una volta su Cristiano Ronaldo Che porta sopra i suoi Gestisce il pallone con questi micromovimenti Semplicemente fatti con la levetta analogica Anche un po' di crocchette annullate Che non fanno mai male Ancora una volta potete vedere Palla dall'esterno verso dentro E chi va a finalizzare ragazzi Va a finalizzare ancora una volta Neymar Qui si vanno a ripetere tutti quelli che sono i temi proposti Ossia azione che parte dal terzino Per l'esterno che va a buttarsi dentro E va dunque a costituire il movimento numero 2 Conoscenza dei propri giocatori e dei movimenti senza palla Quindi mentre Ronaldo andrà ad aggredire questa porzione di campo qua Lui già sa che il suo C.O.C. andrà a buttarsi dentro In posizione da seconda punta E andrà a finalizzare l'azione sempre Neymar Così come era accaduto nel primo caso Guardate qui Bravissimo lui a creare lo spazio al centro È quello che succede È proprio quello che vi ho detto io Quindi Modulo che vi permette spesso e volentieri All'interno dell'area di rigore Di ritrovarvi in una situazione Tipica da 4-4-2 Che è quella che fa la differenza Perché spaventa l'avversario Avete visto come Daniel Fabbia ha selezionato Varane Ma Diciamo che non sapeva bene che cosa fare Visto che si è ritrovato in area Neymar Il fenomeno e non sapeva un attimino Chi doveva andare a marcare Quindi Ancora una volta Costruzione della manovra Impeccabile Scientifica da parte di Levi Che veramente ha fatto Ha fatto un torneo Grandioso Grandioso va detto Visto più di una partita Vinte in maniera Straconvincente tutte E insomma Primo anno in cui Questo ragazzino Può competere E sta facendo vedere Quanto di buono aveva dimostrato Comunque Fino ad ora Intanto anche lui Inserisce Bergwin dalla panchina Quindi Forze fresche E sto Bergwin come vi avevo detto Non male Ancora una volta L'azione però è sempre la stessa Pala dal terzino Verso dentro Pala per Cristiano Ronaldo Qui Non riesce a girarsi come vuole Rimpallo fortunato Oblak Compie il miracolo Sul Sul fenomeno Però vedete ragazzi Il tema è sempre Assolutamente Quello Terzino Verso l'esterno L'esterno che entra in area di rigore E va a Beccare dentro O la punta O il O il Guardate come è composto Nella gestione palla Non la butta mai Non la butta mai E fa sempre il movimento Il contromovimento Giusto per andare ad aprire campo Quindi veramente Veramente Impressionante Non Non vedevo una performance Così in un torneo Veramente da Da tanto Vi ripeto Non solo in questa partita Ma In tutte quelle che ha giocato Tutte quelle che ha giocato Non mi ha mai dato l'impressione Di poter Insomma Perdere il Il passo Qui ancora una volta Si va a costruire l'azione Sul Sul buon Maxi Man Che Aspetta Il supporto dei due mediani Che come vi dico sempre Sono fondamentali Anche nell'andare a servire Le due punte E come potete vedere Ancora una volta Si costruisce Una Conclusione pulitissima Che però viene intercettata Dal buon Oblak Che per me Vi ripeto Alla noia E' uno dei migliori portieri Del gioco Qui ancora al limite Dell'area Cerca Di andarsi A liberare lo spazio Guardate come Aggredisca Quella porzione di campo Lasciata vuota Da difensori D'Agnolf Gestisca il pallone Con crocchetta annullata Piccoli micromovimenti Veramente In maniera impeccabile E' una gioia per gli occhi Questa è una risposta A tutti quelli che dicono Si ma senza il doppio passo Questo Quell'altro Ragazzi Non ha fatto nulla Di eccezionale Se non muovere il pallone Conoscere i movimenti Della propria squadra E' Semplicemente questo Ha giocato a calcio Visto che insomma Dite sempre che Che bello Torniamo a Bisogna giocare a calcio Eccetera eccetera Ha giocato a calcio Niente gli si può Veramente dire Qua ancora una volta Sempre La solita giocata Guardatela Dall'esterno Con Maximen Che torna dietro Fa un micromovimento Sa che il suo attaccante Si va a buttare dentro Lo va effettivamente A servire E va a concludere Il gioco Con questa rete Del 3 a 0 Quindi 5 a 1 Totale Nel computo Dei due match Ma veramente Una prestazione Clamorosa Da parte Del talentino Olandese Che vi ripeto Poi arriverà In top 6 Quindi ce lo gusteremo Tra qualche settimana Alle fasi finali Del torneo Quindi raga Per questa analisi Fondamentalmente Tutto La risposta Che quindi Mi sento di dare Al quesito Che siamo posti In presidenza È il 4-2-1 È tornato Sì Però vi ripeto Va utilizzato Con criterio Vanno imparati I movimenti Dei nostri giocatori Eccetera Eccetera Però come potete vedere È un modulo Che al momento È un ottimo compromesso Tra l'essere Un po' più coperti E ripartire Alla grande E avere Tante possibilità Davanti Muovendo il pallone Quindi Occhio al 4-2-3-1 Perché probabilmente Lo rivedremo Con più Con più frequenza Per quanto riguarda Il video È tutto Io vi saluto Vi ringrazio Se siete arrivati Fin qua Vi ricordo di lasciare Un like Un commento Iscrivetevi al canale Trovate in descrizione Tutte le info Per le live Sulla piattaforma Viola Giornaliere E non da raga Vi auguro una buona giornata Ciao ciao